Paolinho si è conclusa la prima della Sampo e purtroppo con una sconfitta per 4-2, è stata una gara impegnativa, impegnativa perché comunque il Pistole ha giocato un buonissimo calcio e poi nel finale vi siete forse anche un pochino innervositi quindi non avete avuto particolari magari chance di riuscire poi a pareggiare, poi con il 4-2 si è chiusa un po' la gara. Sì, purtroppo abbiamo iniziato questo falso-falso, però solo sta iniziando, sapevamo che era difficile, era un esorgio a casa, tutto l'atmosfera che sta, questa società, questo progetto, sapevamo che sarebbe dura, come è stato, sapevamo della forza loro, loro giovano bene, nessuno non aspettava un'altra cosa, la Serie 2 è così perché ogni partita è una guerra sportiva e è buono tra virgolette iniziare così perché già dobbiamo sapere da inizio come sarà. Quali sono gli aspetti magari positivi da poter insomma prendere quest'oggi? Io penso che abbiamo fatto delle cose buone, però dobbiamo approfittare la settimana a lavorare, io penso che tutti, ha dato tutto, nessuno si è risparmiato, quello penso che è positivo, però sappiamo delle nostre responsabilità e dobbiamo cambiare già. Un po' di delusione per il risultato ovviamente, la prima di campionata è sempre delicata in tutti gli sport di squadra, sembra una partita un po' appunto delicata. Sì, è sempre così, la prima, come ho detto, tutto che è questo progetto, una pressione nostra interna pure, però questo dobbiamo lasciare a esterno e alzare la testa da subito perché sabato abbiamo un'altra partita e da adesso in poi non possiamo fare la cosa male che abbiamo fatto oggi, dobbiamo cambiare già e sono sicuro che così sarà.